...como rapito, Francesco Seghi e quindi sta andando tutto alla perfezione. Ottimo, cioè noi siamo... ...paticamente io e Gabriele siamo... Ma Morano Argentin, Morano Argentin si è visto. Sì, dopo viene anche Argentin. Allora, va avanti il nostro pomeriggio qui su Radio Toscana e con la diretta dai mondiali, dal villaggio dei mondiali di ciclismo di Firenze va avanti con Francesco Varelli, Gabriele Giustri e tutti quegli altri qui di Radio Toscana. Ognuno ha un peso da portare con sé Non dirmi che tu ma lo sai Ma più ci pensi e più succede